I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo e della sezione radiomobile del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Agropoli hanno tratto in arresto due cittadini responsabili di aver perpetrato una rapina in zona Laura, nel comune di Capaccio Pestum. Nel pomeriggio del 26 gennaio scorso, dopo essersi avvicinati a due signore, le avevano costrette a consegnare loro le borse con all'interno portafogli, cellulare ed effetti personali, sotto la minaccia di un coltello. Successivamente si sarebbero dileguati all'interno della pineta facendo perdere le tracce. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito l'identificazione, il ritrovamento e l'arresto dei predetti, nei confronti dei quali sono inoltre in corso accertamenti per verificare la responsabilità anche nei confronti di altri fatti simili accaduti nella medesima zona. Arresti domiciliari e custodia in carcere per i due soggetti di nazionalità italiana e marocchina.